Pensi, consigliere, che quelle mascherine le devono portare i cittadini che vivono a ridosso dell'inceneritore di Malagrotta? Comunque, volevo esprimermi favorevole a questo ordine del giorno, in merito a interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Siamo più che d'accordo, tant'è che con l'ora dell'assessore Montanari e anche congiuntamente con l'assessore Montuari stiamo già valutando una delibera che preveda dei tavoli all'inizio interdipartimentali per superare le diverse criticità del sito citato nell'ordine del giorno. Quindi siamo favorevoli a questo ordine del giorno. Grazie